A proposito di primarie, posso chiederle chi il PDL preferirebbe che vincesse? Ho capito, nessuno, però il meno peggio per voi. Che vincesse le primarie, poi naturalmente per le elezioni è diverso, ma io devo dire, non saprei, forse non dovrei dirlo perché sto parlando di una televisione, tra il marcio e la muffa non saprei cosa scegliere sinceramente. Non lo so, forse Marco Dori è un uomo nuovo, la Pinotti è assolutamente spigolosa, forse il sindaco Vincenzi è molto spigoloso, grandi cose in 5 anni non ha fatto, non ha fatto direi nulla. L'unica cosa che ha portato avanti è stata quella della gronda, ma l'ha portata avanti con successo perché noi l'abbiamo appoggiata, direi che grandi cambiamenti in città non ci sono stati, se non in negativo addirittura, direi che non saprei. Il vostro candidato lo tireremo fuori, penso domenica, domenica che abbiamo il congresso tireremo fuori il candidato sindaco. Grazie 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 Grazie